allora io riprovo un attimo ci ho messo troppo tempo mi serve un cavo sto nuovo PA wifi ho caricato il primo ho scoperto che è a scatto cioè dovrò rifare il primo livello adesso un attimo ho cambiato due cose per vedere nella fase di registrazione del video per vedere se migliora non sono sicurissimo che migliori ho veramente un pc di topogigio e io che voglio fare il prof nooo perché sono con una sega umana non torna eccolo qua ah è di scoperto non parecchio ah è di scoperto non parecchio ah ho dovuto prendere non è di scoperto così ah ho dovuto prendere non è di scoperto così nooo che cosa stia male però ancora ho curiato la tre o tre volte mi vengono due o quattro ma in tre volte non l'ho mai finito nooo che cosa stia male nooo che stia male però ancora ho curiato nooo che cosa stia male è buon Oh, queste cose così mi fanno già meglio, quando ne prendiamo meno tre di fila. Gli dice qualcosa? Ci vado? Ah, ho capito, per me se abbasso qua sta il giallo. Sì, sì, sì. Ebbasci ancora, abbasci ancora. Scusi anche così. Perfetto. Nooo, mi sono... Mi ha matato la gel, guarda qua. Ehm... È preciso bisogno di questa volta. Ehm... Beh, prima ne avevo fatto 15... 18.000 punti... No, ho fatto tipo 12.000. E' già un miglioramento di schede. E' il punteggio palladazzo. Pazzo, pazzone che pazzate. Ehm... Pazzo, pazzone che pazzate. A presto. No, ho fatto... Beh, pazzone che pazzono. Ehi ho fatto l'aria che pazzono di schede. Pazzone che pazzono. Oh... Unico nonico. Unico nonico. Unico nonico. Unico. 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 non è vero no, non lo vedi adesso da sotto sopra battuta battuta gioco di prove dipende da no adesso si chiama ingordiccia andiamo indietro ah, prendo gli eserciti e non mi dà più il punto è ok è ok è ok ah è ok 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 è giocando a fare rapido a fare un po' di punta ai ho finito con... troppo ingurdi già... ho finito con l'alise che non puoi, non puoi, non puoi, non puoi. Quanto mi piaceva la spinata però, classica. Questo è il salto... no! Questo pezzo qua, spero di ricordarlo. Spero di ricordarlo, un cacchio. Una sega vivente. No, ma perché ho questa fretta? Il megalomane che è me. Il megalomane. Cazzo! Se son cartuccia più venti. Ma! Ah! Ok. In tedesco... In tedesco quando sei il segaiolo si dice Vixa. E adesso mi sto proprio facendo il segaiolo. E c'è... Ripetite aiutare, qua non mi sta aiutando niente. Allora... Qua poco fa... Ah... Allora... Non si può non... Ah proprio perché non lo sto guardando. Ah sono già indeciso. Allora... Ta ta... Ta... Ta ta... Qua in fa... Al penultimo. Andiamo a fermare. Al penultimo mi fermo. Quindi vado qua. Aia santa. Eh vabbè. Se cagliolo inside. Troppo eh. Di tempo non... Ma cosa sei sega? Ma a due mani? Proprio adesso eh. Cazzo... Ma cosa sei sega? Ma cosa sei sega? A tre mani praticamente. Cosa c'ho in testa? Non lo so, il vuoto cosmico, ma devo caricare questo video di merda dove mi butto giù. Ma che non sto capendo un car, perché non sto pensando, sto solo muovendo il PG senza segnare nulla. E che cazzo? E quanto vaffa? E quando è così vuol dire perché il cervello è Brain-Off. Brain-Off, 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 proprio Brain-Off, una sega umana a 12.000 karat. Ah, non è possibile, cioè è possibile perché l'ho fatto. Eh, ascoltate, cioè ascoltate, troppo sto parlando da solo, quindi non so neanche se l'ho carico in questo video. Perché veramente ho fatto un pezzo di merda, che più di merda è difficile immaginare. Adesso quanto da sega sono stato, cioè è esagerato. Fai di tempo extra zero, non più, ah, sega totale. Fai di tempo extra zero. Fai di tempo extra zero. Fai di tempo extra zero. Ma ho fatto malice di ultima cosa è che se vuoi non mi viene a punti alla perna no Ok. Grazie a tutti. Oh, il punto di gioco mi soddisfa un po' di più. No, forse potrò un tempo attaccare le firme mille... Il secondo gioco mi soddisfa un po' di più. 40.000 appunti ho fatto. Ah, voglio solo vedere nelle classifiche. Questa qua è 110.000 quando ho finito i livelli. Beh, qua sono già Giocoppoli. 16.000 al mondo con 18.000. E' 5.000 al mondo con 23.000. E' 5.000. E' 5.000. Vediamo un po'. siamo tutti a blocco unico per un sacco 50 punti e un jump in più vabbè si può scalare vedrò un po' quello che posso fare pian piano in gaming adesso stoppo e vedo se salta come prima